Benvenuti nel mondo degli orologi Elvezia. Elvezia è stato un marchio svizzero di orologi di lusso fondato nel 1880 a Lasciodefons, in Svizzera. Il marchio è stato creato da un orologiaio svizzero di nome Luis Brent, che ha deciso di chiamare la sua azienda, Elvezia, in onore del nome latino della Svizzera. Elvezia è diventato un marchio di grande prestigio nel mondo dell'orologeria svizzera, noto per la sua precisione e la qualità artigianale. Ogni orologio Elvezia veniva prodotto a mano in Svizzera, utilizzando solo i migliori materiali e meccanismi svizzeri di alta qualità. Questo approccio artigianale alla produzione degli orologi garantiva che ogni pezzo fosse unico e di alta qualità, con una precisione che durava nel tempo. La gamma di orologi Elvezia comprendeva diversi modelli, tutti caratterizzati da un design elegante e raffinato, tra cui il cronografo, il calendario perpetuo e il tourbillon. Gli orologi Elvezia erano molto popolari tra gli appassionati di orologi di tutto il mondo, considerati oggetti da collezione e un investimento di grande valore. Nonostante la loro reputazione di qualità e precisione, l'azienda Elvezia non è più attiva. Come molte altre marche di orologi storici, Elvezia ha attraversato diversi cambiamenti e acquisizioni nel corso del tempo, fino a scomparire del tutto. Tuttavia, ci sono ancora molti orologi Elvezia antichi disponibili sul mercato dell'usato, che rappresentano dei veri e propri pezzi da collezione per gli appassionati di orologi. In sintesi, Elvezia è stato un marchio svizzero di orologi di lusso con una lunga storia di eccellenza artigianale e di precisione. La gamma di orologi Elvezia comprende diversi modelli, tutti caratterizzati da un design elegante e raffinato, e venivano prodotti con la massima cura e attenzione al dettaglio. Gli orologi Elvezia sono stati un simbolo di eleganza e raffinatezza, rappresentando l'eccellenza dell'arte orologera svizzera. Anche se l'azienda non è più attiva, gli orologi Elvezia antichi continuano ad essere oggetti di grande valore e di grande interesse per gli appassionati di orologi. Grazie a tutti.